Banda larga? Sì Qual è la statuetta più richiesta? Sicuramente Berlusconi in diverse salse, oramai è diventato un evergreen C'è da quello con la bandana a finire a quello ferito senza due denti Questa cosa di Berlusconi che se ne sta parlando tantissimo Questa statuetta con Berlusconi diciamo fasciato era simpatica diciamo da comprare quest'anno e quindi l'abbiamo pensato bene di comprare E' divertente perché è la creatività napoletana che sfrutta tutti i gossip per fare queste cose Ma non c'è a zicca